Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, guardate quanto è carino questa mia nuova postazione video. Sono nella palestra, ho allestito questo angolino perché sennò era sempre il solito noioso angolo con le piante, che so che vi piace però volevo cambiare un po'. Allora oggi ho poi il mio telefono perché come sapete quando devo fare questi video qua, che vi piacciono un sacco, dedicati al confronto tra l'Inghilterra e l'Italia, me li scrivo sempre perché sennò perdo il filo. E sapete che mi piace fare video concisi, non mi piace dilungarmi troppo, sia per voi sia per me che li devo montare bene. Oggi ho deciso di proporvi un video un po' rischioso. Allora, un video che come avrete già letto dal titolo, si chiamerà qualcosa come i 10 motivi, forse sono anche più di 10, i vari motivi per cui non rimpiango ad aver lasciato l'Italia. Bene, li ho tutti iscritti, allora prendete questo video per quello che è, ovvero un video divertente, rilassante, insomma modo per intrattenere. Non è assolutamente un'offesa all'Italia, sono tutti motivi molto personali e opinabili, quindi non venite a dire ah ma per me non è così, ci sta, ci sta che non siano condivisibili da tutti, però queste sono le mie ragioni, anzi queste sono alcune delle ragioni per cui sono contenta di vivere qui. Ci sono anche motivi che quando gli arrivano gli stranieri, gli inglesi, gli americani arrivano nel nostro paese, spesso si trovano stupiti e poi me lo vengono a dire ah sì sono stata in Italia ma è successo così così. Bene, prima cosa il rispetto degli italiani delle file, ovvero inesistente. Le file che fanno gli italiani generalmente sono tonde, ci si arriva, ci si ammassa davanti al punto X e poi pian piano spintonandoci si fa la strada. Mi è capitato invece qua in Inghilterra addirittura di sentirmi rimproverare all'inizio perché noi eravamo saliti sull'autobus prima di un'altra persona che era arrivata prima di noi alla fermata, addirittura qua si mettono in fila quando arriva l'autobus in ordine di arrivo e cioè noi eravamo tipo sconvolti quando è successo però una volta capito il sistema si segue e funziona. Altra cosa che mi lascia sempre mi ha lasciato sconvolta quando sono arrivata qui e ora che mi sono abituata e l'opposto quando torno in Italia è quanto urlano gli italiani, quanto sono loud. Me ne sono resa conto la prima volta perché eravamo in centro, in paese e c'era un silenzio pazzesco. Io e Luca eravamo seduti su una panchina, ci siamo guardati e c'erano un sacco di persone intorno perché era tipo sabato pomeriggio e c'era un silenzio incredibile. Tutti parlavano piano. Poi siamo andati a mangiare da sabbo e anche lì era pieno e non volava una mosca. Invece immaginatevi voi quando andate fuori a mangiare con gli italiani cosa si fa? Si urla per farsi sentire da un capo all'altro dal tavolo, i tavoli accanto non sentono la loro conversazione quindi urlano ancora di più, va a finire che si torna sempre a casa con il mal di gola per aver urlato troppo e il mal di testa. Questa è una cosa che all'estero nel nord Europa non succede, in Inghilterra men che meno, sono tutti molto silenziosi, parlano tutti a bassa voce, quindi fatelo se andate all'estero, sennò saremo sempre etichettati come gli italiani rumorosi. Altra cosa che io non rimpiango sono i baci e gli abbracci. Non sono una persona particolarmente abituata a dare baci e abbracci quando ci saluta e ci si lascia, non mi danno fastidio, però ne faccio volentieri anche a meno, ecco. È una cosa che gli inglesi si scambiano a Natale, il primo dell'anno o se qualcuno se ne sta andando proprio tipo cambia reparto, cambia lavoro così, allora sì ci sta. Anche se a qualcuno è successo qualcosa, appena tornato, magari dopo una lunga assenza, va bene, però ecco gli italiani di solito erano baci e abbracci ogni volta che ci si vede, anche se sono passate due settimane. Voi da che parte state? Fatemi sapere se siete i tipici italiani da abbraccio oppure se siete un po' più nord europei. Altra cosa che lascia abbastanza perplessi quando ci si incontra con degli italiani è che non si decide mai un orario. Ci si dice tipo al pomeriggio, ah sì ci vediamo stasera, allora va bene, ci vediamo stasera, che ora? Adesso vi faccio sapere, apri decidiamo un orario, ma facciamo verso le sette, venite voi quando siete pronti, è sempre così. Invece quando ci si incontra con gli inglesi si decide magari tre settimane prima, ci si trova alle sette e quindici e tutti alle sette e quindici sono lì davanti puntuali, perché tutti arrivano un quarto d'ora prima. Invece se si esce con gli italiani ci si trova magari verso le nove, che vuol dire che poi diventa alle nove un quarto, poi oh dove sei e sto arrivando per le nove e mezza ci siamo tutti. Vero o no? La cosa a cui mi sono abituata immediatamente è arrivata qui e ogni volta che vado in Italia faccio fatica, sono i prezzi. I prezzi sono veramente cari in Italia, nel nord Italia da dove vengo io, ogni volta che torno è una mazzata, parlo di prezzi di cibo, vestiti, trucchi, qualsiasi cosa, le stesse marche in Inghilterra costano molto meno e addirittura marche di cibo italiano costano meno in Inghilterra che in Italia, me l'avete confermato anche voi sotto i video precedenti. Dopo quando si parla di frutta di stagione c'è meno scelta, però la carne e le materie prime per cucinare costano decisamente meno in Inghilterra. Io quando vado in Italia a comprare il cibo che poi mi devo portare via rimango sempre ma è tantissimo, come si fa a vivere qui, come fate a fare la spesa settimanale senza lasciarci un rene ogni volta. Altra cosa che lascia gli inglesi sempre stupiti quando vengono in Italia e anche me che manco da tanto comunque, il modo di guidare. Vengo da una zona che non è super trafficata, vengo da vicino Bologna, però la gente è pazza, la gente che guida in macchina è da mettersi le mani nei capelli, non rispettano i limiti, non rispettano le rotonde, non c'è una logica, si buttano dentro da tutte le parti, gente che parcheggia in rotonda. Appena non parti tipo Formula 1 al semaforo subito dietro po po po, vabbè questa è una cosa che infatti quando torno in Italia se posso evito di guidare perché non sono più abituata, ci vuole, ci vuole carattere, ci vuole un po' di, una guida sportiva. Lo dicono tutti infatti quelli che vanno in Italia a fare turisti mi dicono ma guidati come dei pazzi, eh lo so. Una cosa invece che son contenta non esista in Inghilterra e che non rimpiango è la pausa pranzo dei negozi. I negozi, come sapete bene, soprattutto nei paesi e non nelle città grandi, chiudono magari a luna, riaprono alle quattro e in quelle quattro, in quelle tre ore di tempo cosa facciamo, cosa si fa, non lo so, se si è in giro per fare spese, nulla. Addirittura mi è stato chiesto degli inglesi se in quelle tre ore gli italiani fanno la siesta, io non lo so cosa fanno gli italiani in quelle tre ore di pausa, probabilmente vanno a casa a mangiare, perché se non abitano troppo lontano e hai tre ore cosa fai, vai a casa, mangi, fai qualche lavoro in casa, non lo so, però sicuramente non è comodo per chi deve fare giri. Altra cosa che non mi manca dell'Italia, credo sia la settima perché ne mancano solo tre, sono le file, file in banca, file nell'ufficio postale, file nei luoghi pubblici. Quando andiamo in banca qui di solito ci veniamo accolti immediatamente da una signorina che prende nota di cosa siamo venuti a fare, ci fa accomodare, tempo due minuti di orologio ci hanno ricevuto. È capitato una volta che andassimo in banca, più di una volta in realtà senza appuntamento per fare faccende lunghe, tipo la proposta del mutuo o l'assicurazione per la casa, che alla fine passavano avanti e abbiamo detto vabbè entriamo, vediamo se hanno tempo per noi. Ci hanno sempre ricevuto subito, addirittura una volta non potevano, ci hanno detto abbiamo posto soltanto tra dieci minuti, volete una tazza di tè nel frattempo che aspettate? Noi eravamo così sconvolti che abbiamo detto no perché non eravamo pronti a questo genere di domande. Addirittura ti fanno sedere con una tazza di tè se non sono pronti a riceverli. Questa è una cosa che in Italia è pura fantascienza, le file alle poste, anche quelle qui non esistono, il parcheggio della posta è gratuito per dieci minuti, pensate dieci minuti voi parcheggiate, entrate, fate quello che dovete fare e uscite. Bello, bello, proprio una cosa che tuttora mi fa proprio stare bene, sapere di dover andare alla posta e non dover far fila. Un'altra cosa che preferisco di gran lunga qui è la gentilezza delle persone, ma proprio l'attenzione alle persone. C'è chi dice ma gli inglesi sono falsi perché non lo pensano davvero, fanno un sorriso finto. È il loro modo di fare, non è essere falsi. Loro accolgono sempre i customer, le persone, i clienti, li accolgono sempre con il sorriso, sempre con gentilezza, è molto molto raramente capitato di trovare persone sgarvate e non durano tanto le persone sgarvate perché non è proprio, cioè viene ripreso. È una cosa che invece purtroppo negli ultimi anni ho notato sempre di più quando torno, quando si va nei posti pubblici, il modo brusco che hanno le persone di interagire. probabilmente sarà che gli orari e gli stipendi non sono adeguati, che sono stressati, non lo so. Però molto spesso mi è capitato di sentirmi trattata abbastanza, insomma, in modo rude quando vado nei posti pubblici. Sia quando chiedi qualcosa ai commessi, invece qui c'è molta attenzione. Se stanno facendo qualcosa tu gli chiedi dov'è questo, loro mollano quello che stanno facendo e vengono, ti accompagnano alla corsia giusta se stai cercando qualcosa. O comunque, cioè sono sempre assolutamente 100% disponibili. Sarà anche falso, sarà che non lo pensano davvero, però fa star bene il cliente quando viene accolto con un sorriso, con gentilezza. E poi anche quando le persone sono in ascensore, ti sorridono sempre, ti tengono tutti la porta. Quando tu arrivi, Luca ci ha messo un po' abituarsi a questa cosa. Quando c'è qualcuno davanti a te e stai passando dalla porta, te la tengono la porta oppure fanno passare tutti e poi ti chiudono la porta alle spalle. E sono piccole attenzioni che però creano un ambiente molto rilassato, molto amichevole e sereno. L'ultima cosa che non mi manca dell'Italia è la politica. Il parlare di politica. Quando accendo il telegiornale italiano, e non lo faccio quasi mai, però abbiamo visto un po' di puntate in occasione del virus, insomma per tenerci informati, si parla sempre di politica, sempre e anche le persone spesso discutono di politica. Qui invece è una cosa off limits. Ci hanno proprio insegnato, quando abbiamo fatto il corso di introduzione per diventare infermieri, ci hanno insegnato che parlare di politica è no, proprio vietato. Si fa lo small talk, che parlare del tempo, del lavoro, della famiglia, di viaggi, qualsiasi cosa, ma la politica no. Ci hanno proprio detto non fatelo, non parlate di politica coi pazienti. E devo dire che la gente che si scanna l'un l'altro parlando di politica non mi manca affatto. Voi invece cosa ne pensate di questi punti, se vi trovereste bene? Fatemi sapere invece se c'è qualcosa che non condividete, tipo Luca invece adora parlare di politica, dire le sue idee con veemenza. Ogni tanto lui ci prova, nonostante gli sia stato sconsigliato. Bene, con questo direi che ci siamo. Questo video non so quanto possa essere venuto lungo, ma l'ho registrato giusto così perché avevo l'ispirazione oggi pomeriggio. E poi stiamo per partire. Finger crossed, forse riusciamo a tornare in Italia finalmente in quasi un anno. E volevamo andare in montagna, volevamo andare a fare qualche giorno in montagna. Quindi seguiteci su Instagram. Sono elinovantaok, ve lo scrivo qui. Seguiteci su Instagram se volete vedere un po' le nostre avventure. Se no i blog torneranno a breve con i blog delle vacanze. Se invece non riusciamo a tornare in Italia, avevo già iniziato a guardare per andare in Scozia. E qualcuno mi ha detto non tornate in Italia, andate in Scozia. Che sarebbe bellissimo, mi piacerebbe un sacco tornare in Scozia. Soprattutto fare quel giro che ho già programmato. Però non torniamo da talmente tanto tempo che vorremmo solo tornare a trovare gli amici, le famiglie. E niente, quindi per ora è tutto. Ci sentiamo presto. Se no, se non ci seguite su Instagram, vedete presto dai blog dove siamo finiti. Perché fa un po' strano organizzare un viaggio senza sapere alla fine dove si sarà. Se saremo qui, se saremo in Italia o se saremo in Scozia. Comunque i viaggi ci sono organizzati, quindi qualcosa sicuramente vedrete. Alla prossima, ciao ciao!